bella ragazzi qui è justice siamo tornati con fivo 14 e tra poco apriremo un pacchetto da 100.000 crediti che ne abbiamo solo una disposizione e lo andremo ad aprire iniziamo subito ragazzi non si guarda non guardiamo guardate ragazzi non guardate mettete mi piace mi piace per il tos mi piace per il tos mi piace per la vita mio dio bellissimo chi è questa alborussia oh daniel alves daniel alves not bad daniel alves 20k dovrebbe valerli non è schifo il sharawi daniel alves rami che di giù bella begnà lescott bender un culo essien mignolet e il sharawi 20k baggato 20k che giocatore 20k che schifo vargas sabate ma dimmi tutti non c'abbiamo niente ci sto devi discartare il resto devi discartare il resto perché vediamo se c'è qualcuno di consistente mamma mia che schifo vabbè danno è andato poteva andarci peggio ma abbiamo trovato daniel alves scartando diciamo che forse 35k ci siamo ripesi comunque ragazzi passando le cose serie abbiamo ordinato l'elgato appena oggi ovviamente la web app perché non va abbiamo ordinato l'elgato dovrebbe arrivare a pochissimi giorni vi ringrazio per i 200 per i 200 iscritti che ormai sono diventati 270 quindi grazie a tutti inizieremo probabilmente il royce road to germany appena sarà disponibile l'elgato e proveremo a fare questa serie che dovrebbe essere una delle poche riguardo alla germania adesso andiamo ad aprire un pack da 7500 per tentare la fortuna non saltiamo non saltiamo non saltiamo non saltiamo oh mio dio ecdal emerson mamma mia ragazzi che piazza ne andiamo ad aprire un ultimo un ultimo pack da 7500 crediti andiamo subito proviamo a saltare il pack della vita l'ultimo vediamo vitale alaba tutte e due proviamo con vitale alaba vitale alaba eccoli qui eccoli qui mio dio salta salta luca sleiva che giocatore che giocatore ragazzi che giocatore proprio lui giocatore di merda comunque il video finisce qui mi raccomando iscrivetevi se non lo siete già mettete mi piace commentate condividete il video e niente bella